Preoccupazione e delusione, questi sentimenti che animano i 200 lavoratori del Policlinico Sassarese che ieri hanno appreso la notizia della sentenza di fallimento della struttura di Viale Italia e forse l'esito peggiore che si potesse ipotizzare. Negli ultimi due mesi, promesse, riaccreditamenti parziali e convocazioni di tavoli non hanno portato a nessuna certezza. Quel che è certo ad oggi è invece il licenziamento dei lavoratori, che potrebbe essere ufficializzato già tra due giorni, quando il curatore fallimentare, ricevuto i bilanci e scritture contabili, potrà stabilire se e in quanti potranno restare in attività nei prossimi sei mesi, quando scadrà l'esercizio provvisorio dell'impresa. In questo momento noi saremo tutti licenziati. I sindacati dovrebbero parlare col curatore fallimentare per cercare di capire in realtà che cosa si vuole fare, perché c'è una piccola speranza, nel senso ci ha dato la possibilità di lavorare per altri sei mesi, però è ancora tutto bene da definire. In questo momento siamo con un punto di domanda. Dovremmo essere tutti licenziati, perché comunque c'è un fallimento, quindi di regola tutti licenziati. C'è la possibilità che possano valutare di prendere un tot di persone, un tot di professionisti e poi gli altri stiano a casa. So che i sindacati hanno lavorato con la Confindustria per poter avere questo fondo di integrazione salariale. Questo un pochino ci salva, però anche quello col fallimento, cosa succede? Questo fondo ci sarà? Non ci sarà? E veramente siamo tutti un po' con l'ansia, un po' preoccupati. Il destino dopo la dichiarazione di fallimento è in ogni caso il licenziamento, che ora o tra sei mesi dovrà avvenire di necessità. E anche qualora ci sia scaduti sei mesi l'acquisto della struttura sanitaria da parte di un soggetto privato, cadrebbero tutte le condizioni stabilite dal patto sociale del mantenimento dei livelli occupazionali da parte della nuova ipotetica proprietà, che avrà tutto il diritto di stabilire una nuova organizzazione della struttura e quindi nuovi parametri del personale. Grazie a tutti.